La mia passione per le bici è grandissima. Quando mia madre mi ha detto che c'era questa opportunità, non ci ho pensato due volte, ho fatto subito il colloquio per vedere di rientrare in questo corso, proprio senza nemmeno farmi un paio di domande. Ho subito deciso, anche se era un corso che ovviamente non mi portava soldi, non mi portava nessun reddito, però questa qui l'ho presa come un'attività di crescita personale. La mia situazione di lavoro è un anno e mezzo che non lavoro e non riesco a trovare nessun lavoro. Io vado là due volte alla settimana e sono delle persone molto squisite, ti insegnano, ti fanno vedere. È nata anche un'amicizia, socializzo con loro, ho conosciuto loro, è una bella esperienza. Le persone che facevano parte del corso erano, diciamo, per età o comunque per modi di fare e di vivere molto diversi da me. Ho imparato tanto, mi hanno insegnato delle cose che magari agli occhi di un giovane come me non sono semplici anche da capire. È una cosa molto bella vedere appunto come si legano tra di loro, come si crea gruppo, come crescono e come cambiano appunto, grazie anche a una piccola cosa come la ciclofficina. Spero che mi dia una cosa positiva, molto positiva, di un lavoro, di una credibilità che ti faccia riemergere.